Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in pieno dumping diretta oggi neanche volendo ho aperto ho fatto inizia live come ho cliccato proprio su va in diretto visto babababam la candela rossa estendersi giuro non centro anche perché lo sapete che insomma io sto ancora aspettando il mio short di copertura di aprirlo ma mi sa che a sto giro non lo aprirò mi sa che starò a guardare il bear market da fuori per fortuna su bnb e su ethereum come vi dicevo le ultime volte sono riuscito a coprirmi almeno in parte e quindi vabbè il disastro c'è cioè il portafoglio sta avendo fluttuazioni abbastanza importanti ecco la parte cripto però almeno un po' ci difendiamo comunque non ancora tutto è perduto perché adesso stiamo riattaccando il nostro low locale il nostro minimo locale che si trova in quest'area e poi abbiamo il nostro ultimo baluardo di domanda qua sotto i 30.000 dove ogni qualvolta abbiamo provato a pizzicare per ora dico per ora la reazione è stata positiva quindi stiamo un po' a vedere la che cosa succede sempre da queste parti per il resto noi ci troviamo sempre come al solito lunedì mercoledì e venerdì 18.30 19.30 su twitter quindi se ci state seguendo su youtube mi raccomando se volete interagire con la diretta facendo domande non lo so qualsiasi cosa che vi viene in mente partecipando nella chat eccetera su twitch mi raccomando il link è in descrizione e lasciatemi anche un like che mi gasate dai con questo bear market ormai non riesco neanche più a gasarmi non ho neanche aperto lo short di copertura non so cosa devo combinare cosa devo fare vabbè comunque un po' di notizie interessanti ve le ho trovate e anche qualche piccola chicca del mondo DeFi così giusto perché dobbiamo cercare qualche rendita magari alternativa all'investimento diretto in cripto all'esposizione diretta ce le inventiamo tutte quindi andiamo a dare un occhio a qualche piattaforma DeFi che ha dei liquidity mining interessanti in questo mese in questi giorni anche perché alcuni durano poco ma almeno ripeto da avere qualche rendita su cui diversificare soprattutto in stablecoin se possibile poi la palla passa a voi e alle vostre domande che come al solito sono la parte importante della live fate un po' voi le tematiche e gli argomenti potete chiedere tutte le altcoin che vi va a qualsiasi dubbio che vi frulla per la testa adesso siamo anche in meno del solito è una cosa che a me un po' spiace perché ovviamente più persone mi seguono e più sono contento però dall'altra parte riesco a rispondere a quasi tutte le domande e questa è una cosa comunque positiva ok quindi iniziamo subito con qualche notizia allora El Salvador Paraguay sono un po' i due paesi che stanno pionieristicamente sperimentando il mondo di avere cioè il mondo delle valute a corso legale contenenti bitcoin quindi la possibilità di offrire come alternativa al dollaro americano per quanto riguarda il Salvador il Paraguay non so che moneta ha giuro sono ignorantissimo su questo e in ogni caso l'alternativa alla moneta legale offerta da bitcoin a un precedente storico ne abbiamo già parlato degli effetti che potrebbe avere l'effetto palla di neve comunque l'effetto di andare a scatenare vuoi o non vuoi i regolatori che dovranno reagire in qualche modo no io mi auguro che sia tutte reazioni positive non di mero ostacolo e chiusura ma reazioni positive del tipo accorgersi che bitcoin sta diventando sempre di più perché si sono già accorti che esiste ed è cresciuto ma sta diventando sempre di più un qualcosa di interesse mondiale ok anche a livello monetario quindi le notizie sono la prima che El Salvador l'El Salvador avrà ufficialmente bitcoin come moneta a corso legale la legge che è stata stipulata avrà effetto quindi avrà ufficialità dal 7 di settembre prossimo inoltre l'El Salvador utilizzerà un wallet chiamato Civo che avevo visto anche un significato in spagnolo non mi ricordo quale però però c'era un senso insomma non è una parola caso è stato creato apposta questo wallet per lo scopo è stato creato con finanziamenti da parte del governo stesso se non erro in sostanza l'obiettivo è facilitare le transazioni quindi rendere possibile mandare e ricevere bitcoin a costo quasi zero c'è l'appoggio alla lining network affinché ciò accada e soprattutto la possibilità di convertire quando si vuole in maniera istantanea bitcoin con dollari e viceversa ok quindi le due monete a corso legale ci sta come cosa perché comunque insomma in periodi magari di volatilità importante poi io mi metto anche nei panni di attività commerciali che hanno interesse comunque a fare dell'utile non è che possono fare un utile continuamente fluttuante ma magari appunto possono decidere sa un po in bitcoin un po in usd e così via io vi faccio una domanda provocatoria se voi poteste essere pagati in bitcoin il vostro stipendio le vostre entrate che percentuale vi piacerebbe ricevere direttamente in bitcoin cioè pensate che bello poter scegliere innanzitutto di convertire euro e bitcoin senza problemi con un'app tac senza preoccuparsi di burocrazia fiscalità far le cose giuste mica giuste sarebbe un sogno e poter ricevere lo stipendio a fine mese per dire sa 30% in bitcoin 70% in euro o viceversa magari chi lo sa sono curioso e altra domanda voi utilizzereste mai i bitcoin per acquistare beni cioè perché io se ricevessi lo stipendio in bitcoin ho anche fatto questa riflessione e avessi nel mio patrimonio solo bitcoin o quasi cioè non comprerei più niente perché farei una fatica pazzesca a spenderli immaginatevi adesso in questa fase di bear market con che cuore uno paga qualcosa in bitcoin col cavolo che li vendo a questo a questo prezzo e quindi andrebbe a finire che farei come quegli eremiti che vivono con nulla con solo il leggere i bitcoin vabbè comunque a parte questa cosa niente vi volevo soltanto condividere la data 7 di settembre e il wallet molto interessante lo sviluppo che sta avendo il settore dei bitcoin nell'el salvador perché tra il mining vogliono investire moltissimo sul mining a zero impatto ambientale per via dell'energia geotermica che è molto presente nell'isola nello stato e lo stanno già facendo col vulcano infatti avrete visto è diventato un po' leggendario e anche nello sviluppo di infrastrutture per i pagamenti perché comunque se tutta la popolazione dovrà fare micropagamenti e essere in grado di gestire transazioni veloci snelle piccole rapide dovranno per forza di cose costruire un'infrastruttura necessaria perché bitcoin non è proprio fatto esattamente per questo poi c'è un airdrop così di 30 dollari a testa che è proprio fatto con il wallet stesso cioè della serie tutti i registri ti droppiamo 30 dollari di bitcoin bene poi paraguai invece non ho ancora capito sono sincero quindi se avete qualche delucidazione da darmi a riguardo ditemelo nei commenti perché io ho letto ieri mi pare o era l'altro no era ieri mi sa ho letto una testata che diceva notizia si è ufficiale il paraguai adotterà bitcoin come valuta corso legale poi ho guardato ho cercato anche sui tweet di carlitos il nostro amico carlitos e non ho trovato niente di ufficiale ecco quindi sì si vede che vuole farlo vorrebbe ha fatto un sacco di tweet dove dice immaginatevi la possibilità che anche noi cresciamo con questa economia eccetera 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 però insomma da lì a dire lo faremo ecco poi questo tweet che era della settimana scorsa ha detto che in luglio faranno una legge legifereranno legisleranno avevamo anche affrontato questa sfida linguistica di come si dice ma a parte quello non mi sembra che ci sia ancora niente di ufficiale se non sbaglio e quindi mi sembra un'idea una proposta un'idea molto convinta ma non ufficiale e questo è quanto per ciò che riguarda un po' il mondo geopolitico inerente alle cripto sono curioso di vedere poi quali saranno le prime reazioni forti contrarie se ci saranno come reagiranno e come andrà a finire la storia perché qua veramente si fa la storia e non è che è un gioco è un passo importantissimo che stanno facendo questi stati poi allora procediamo con binance launchpad che ce l'ho aperto perché ecco perché c'è il nuovo launchpool da oggi clay io non so neanche cos'è a dire la verità perché non ci ho guardato sapete che io non investo in questi progetti al giorno 1 da giorno 1 è già stato listato addirittura e qua il farming è partito con la coin già listata su binance infatti se andiamo a vedere clay btc abbiamo ben un giorno e mezzo di storico è stata listata ieri e ovviamente non c'è nessun tipo di dato non si può fare analisi di alcun genere su un grafico così quindi non ditemi entreresti non entreresti cosa si può fare non fare ovviamente io sto a guardare perché uno non investo come dicevo in progetti da giorno 1 e numero 2 non c'è abbastanza storico dati per fare dei trade nemmeno speculativi si potrebbe andare sull'un minuto ma non è proprio cosa da me ecco non sono veramente non sono tanto abile a fare trade sull'un minuto torniamoci indietro al nostro bitcoin che lo teniamo come sfondo eccoci qua e poi ecco allora l'APY è abbastanza basso 2,39% per questa ragione infatti mi avete chiesto ma stai farmando anche questo come al solito in realtà qua è un po' diverso perché di solito io farmò cioè prima pre listing quelle coin che appunto hanno il launch pool attivo ma non sono ancora listate il discorso è il pump che di solito c'è al giorno del listing e soprattutto coin non listate di solito sono farmate meno in questo caso beh la coin è già listata l'APY è già noto ed è veramente basso quindi io personalmente non volendo detenere questa coin io farei farm and dump farm and dump come sempre non ci metto neanche un BNB quindi piuttosto c'è di meglio c'è ATA che è ancora discreto col 5,35 di APY o altrimenti per BNB se non ricordo male al momento una delle opportunità migliori rimanendo interni a Binance eccolo esatto è lo staking vincolato purtroppo quello a 90 giorni è sold out anche quello a 60 è rimasto quello a 30 e basta è un APY dell'8 quasi per cento quindi è sicuramente meglio di quel launch pool lì rimanendo interni ovviamente a Binance perché se poi si esce c'è tutto il mondo DeFi adesso ho visto che a proposito Binance ha riaperto anche lo staking DeFi che per un po' era rimasto bloccato nonostante ciò dunque cosa utilizza BSC a caso ah cos'è lo staking su BSC ok la delegazione Venus Autofarm Ellipsis Maker addirittura Hard Hard lo devo studiare qualcuno di voi me l'ha detto dacci un occhio me lo devo studichiare e interessante Bitcoin su Venus non avevo visto questa opportunità però sono molto volati gli APY soprattutto in periodi appunto bearish come questo quindi niente non mi interessa il launch pool per riassumere tutto quanto in poche parole invece parlando sempre di DeFi allora io vi segnalo innanzitutto su Curve c'è il nuovo pool che si chiama TriCrypto ormai non è neanche nuovissimo perché già da un po' che c'è sia su Ethereum che su Polygon io ve l'ho mostrato su Telegram ma avete fatto un po' di domande quindi per questo ve lo sto facendo vedere oggi ma non è una novità di oggi il pool TriCrypto sostanzialmente funziona con stablecoin, Bitcoin e Ethereum per questo si chiama TriCrypto ok? ci sono tre componenti e c'è una componente di volatilità quindi questo significa impermanent loss non è che perché su Curve allora non c'è impermanent loss è un po' diverso perché non è il classico pool 50-50 si può andare a stimare la impermanent loss del pool TriCrypto andando a fare una simulazione con un pool di balancer per esempio allora questo in realtà bisognerebbe vedere i pesi ok? perché qua abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque coin mentre su Curve, su Ethereum ne abbiamo soltanto tre c'è solo USDT se non ricordo male allora USDT, WBTC e Ether esatto vedete da circa 33-33-33 quindi per andare a vedere qual è no in realtà è come se fosse 33-33-33 anche questo mi inceppo perché comunque Bitcoin e Ethereum sono 33 e le tre stablecoin messe insieme fanno il 33% quindi non c'è differenza l'unica differenza è che ci sono più stablecoin ma vi faccio vedere perché c'è questo simulatore di impermanent loss per balancer che sapete ha i pool multi coin se noi facciamo un 33-34-33 ovviamente se no non viene 100% qua immaginatevi che ci siano Bitcoin, Ethereum e USDT facciamo così che ha più così facciamo tutte le cose per bene anche se è solo un campo di testo e qua potete andare a simulare la impermanent loss in caso di variazione di prezzo di qualcosa quindi bear market, Bitcoin fa meno 20 Ethereum fa meno 30 cosa succede? 1,08 di impermanent loss quindi vedete che non è neanche atroce attenzione che più la perdita è ingente se andiamo a fare ad esempio meno 30 e meno 40 vedete che inizia ad accelerare la impermanent loss quindi fate molta attenzione alla impermanent loss nell'andare a farmare su pool volatili durante i bear market perché è più cattiva in bear market l'impermanent loss che in bull market mi raccomando perché vi sto parlando del pool 3 crypto comunque facciamo un passo indietro vabbè perché su Curve Ethereum secondo me non è male perché dà un APY più o meno del 20 e qualcosa per cento ma se la si fa su Yearn Finance che è l'auto compounder su Ethereum andiamo a vedere se anche oggi è ancora così dunque 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 eccolo qua CRV 3 crypto 53% ieri era un qualcosina in più si sta un po' riempiendo ci sono già 12 milioni ieri ce n'erano meno di 5 comunque è sempre un APY interessante vi ricordo che qualcuno mi ha fatto anche questa domanda questo APY è al netto delle fee di Yearn perché Yearn applica una performance fee c'è il 2% di fee annuale sul capitale totale più il 20% di performance fee e qua sono incluse questa cifra è netta quindi che cosa vi volevo dire? niente che esiste la possibilità mentre su Polygon c'è anche qua il pool 3 crypto e la cosa interessante sarà che il primo di luglio inizia il programma di liquidity mining sia qua che sui due pool sul pool BTC quindi Ren BTC WBTC e che anche questo è senza impermanent loss in realtà sono curioso di vedere l'entità del liquidity mining proprio perché sarà determinante per gli APY sul 3 crypto mi aspetto tanta tanta roba perché è un pool che già ha tanti volumi rispetto alla liquidità e non lo so il mio fiuto mi dice che ci saranno degli APY interessanti poi ultima chicca DeFi di oggi Dfin Define Define non so come si pronuncia è una sorta di DeX crosschain con possibilità di farmare con un'interfaccia molto simile a QuickSwap allora la cosa che mi fa pensare che non faccia un rug pull non sia comunque uno scam sono gli investitori che ci sono dietro adesso ve li sto andando a cercare eccoli vedete ci sono molti venture capital e quindi io presumo che non farà un rug pull ok quindi la gestione penso che sia oculata e assennata ve ne parlo perché se andate a vedere i farm ci sono ops ho sbagliato aspettate che non vorrei che non lo vedete più eccolo si vede ancora yes allora i farm ci sono alcuni farm molto molto validi allora guardate cos'è qua da USDT 60% di APY da USDC 56% di APY Ethereum USDC 111% durano un mese quindi dureranno un mese ci saranno per un mese però finché ci sono io li trovo interessanti ce n'è anche su altre coin e insomma vale la pena interessante ripeto è valido attenzione alla release schedule dei token DEFINE perché il 25% dei token si può recuperare alla fine del periodo di reward quindi non si può fare farm and dump continua bisogna aspettare la fine del conto alla rovescia quelli rimanenti verranno rilasciati al 25% ogni due mesi altrimenti potete scegliere di recuperarli tutti subito ma ne perdete la metà quindi c'è questo questa componente temporale tenetela in considerazione ma gli APR perché questi sono APR quindi parliamo comunque di un rendimento interessantissimo non si può trasformare in APY perché ripeto non si può fare auto compound essendoci la componente temporale ma è interessante rischio lo reputo basso perché ho visto gli investitori rendimento di tutto rispetto anche sulle stable coin quindi se vi chiedete ci hai allocato qualcosa la mia risposta è sì se mi chiedete devo allocarci qualcosa anch'io fatevi i vostri studi pensateci ragionate valutate e quant'altro ok in base a quanto ci siamo detti finora benissimo io ho terminato con la mia pappardella iniziale e adesso passerei la palla a voi allora partiamo dall'alto con le vostre domande eccoci qua teniamo il nostro graficozzo bello in vista hopla eccoci allora 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 no ecco qua rispondete tutti alla domanda penso se andreste a ricevere lo stipendio o spendere bitcoin e quindi molti dicono no 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 non capisco se si tratta della spesa però penso sì sia la spesa tutti questi no perché non credo che uno non voglia ricevere lo stipendio direttamente in bitcoin neanche in parte qui uno dice li terrei come riserva di valore ok no prima li converto esatto prima di spenderli questo immagino anch'io farei così 50% senza dubbio così non devo convertire in fiat perché i bitcoin non li tocco sono riserva esatto esatto per chi interessato bit wage offre questo servizio potete farvi pagare in bitcoin sì però immagino che ti arriverà il cioè gli arriverà lui il bonifico presumo e lui lo converte o no potrebbe essere interessante se l'azienda collabora ecco magari si può stringere una partnership esatto mai vendere questa è la regola numero uno dei moon boy come noi io investo negli USA posso già ricevere gli affitti in bitcoin wow e ovviamente ho aderito interessante questo stipendo in bitcoin holdo il più possibile campo di pane e olio esatto questo è un po' il destino che avrei che avrei anch'io io vorrei il 100% poi me li cambierei io al bisogno esatto anch'io credo che farei così me li prenderei al 100% e poi la liquidità di cui ho bisogno magari mi faccio un piccolo budget mensile e faccio una conversione 20% bitcoin 80% safe labrador esatto e lo stipendio to the moon giusto ciao Luke puoi dare uno sguardo agli APY di hard protocol su cava sono esagerati come mai ecco infatti lo sapevo che usciva fuori adesso mi tocca andare a vedere hard protocol vediamo vediamo che APY ha cava.io vediamo vediamo app vediamo un po' che cosa abbiamo di bello ti chiudo per il momento vabbè dai connettiamo come non si può connettere con metamask ragazzi io non ho mai usato cava e si vede oserei dire vediamo cosa c'è di bello allora usbx che è la loro stable coin stable neanche troppo abbiamo un APY del 115% però vorrei vedere anche aspettate che tolgo la protezione di brave che non vorrei che me lo fa sclerare vediamo di nuovo hard come mai borrow zero non lo so secondo me non mi carichi i dati perché qua non c'è non c'è niente cioè non c'è liquidità mi sembra molto molto strano poi bnb 8% supply reward che era quello che abbiamo visto anche su binance poco fa btcb 20% questo non è male ma c'è poca liquidità non lo so sai sono sincero con così poca liquidità adesso non so questo usdx come funziona e come mai qua non segna liquidità e come mai c'è un APY così estremo perché te lo dà sia in cava che in hard vabbè però bisognerebbe approfondire ma ripeto con così poca liquidità non mi convince del tutto sai non cioè sarebbe un APY volatilissimo e poi un prodotto utilizzato poco perché mi sembra che ad esempio questi btcb sono tutti nel pool ma nessuno li prende in prestito cioè ma non lo so c'è uno 0,19 di tasso di prestito mi sembra un protocollo poco utilizzato ecco poi correggetemi se sbaglio ovviamente poi dunque io vendo il cocco in spiaggia accetto anche Solana sono un uomo buono dimmi dove sei che vengo a prenderti anche un mojito se mi danno bitcoin finirebbero nei miei risparmi e li utilizzerei solo dopo che è aumentato del 20% del suo valore vedi pure tu sei un altro pane e olio e non si tocca un euro sarebbe un buon metodo che per risparmiare se ricevessimo intero stipendio in bitcoin guarderei ogni singola transazione anche il caffè anch'io sai perché dici cacchio cioè finché spendi euro lo fai a cuor leggero magari no però sicuramente più a cuor leggero che se dovessi spendere i miei bitcoin quello sono sicurissimo poi qualcuno sa dove trovare con un prezzo ragionevole delle 3080 ti nuove non lo so con un prezzo ragionevole soprattutto cioè sai secondo me adesso tra non molto il mercato del mining su etereum soprattutto su gpu è capace di deprezzarsi io credo che l'hardware si deprezzerà chi lo sa al venezuela farebbe bene una cosa del genere l'inflazione di quel paese è assurda vero se si convertono 1500 euro con la loro valuta finisci che riempi una stanza di banconote ma infatti non a caso il venezuela è stato uno dei primi stati a interessarsi in maniera genuina a bitcoin proprio perché per avere un'alternativa che gli permetta di sfuggire alla politica monetaria scellerata del loro paese cioè immaginatevi cosa vuol dire avere i propri risparmi in banca e tra una settimana valgono il 2% in meno cioè è brutto è molto brutto lì anzi ti viene voglia di spenderli tutti quanti 700 spettatori oggi il 40% di Shiller finalmente ci ha salutato per adesso chi lo sa chi lo sa io fortunatamente non vedo più shitcoin spammate nei commenti la cosa mi piace non lo nascondo e quindi di questo questo bear market qualcosa di buono ha fatto ci sono ancora delle scillate di shitcoin in giro però stiamo stiamo migliorando forse la gente sta aprendo gli occhi chi lo sa io ci spero sempre domanda un po' tecnica per mettere delle stablecoin su Aave di Polygon devo per forza avere Matic su Metamask e se si devo per forza pagare le fee di Ethereum per portarle lì o c'è un modo più economico guarda ti do un suggerimento che io uso spesso visto che io non detengo Matic anch'io a volte mi sono chiesto caspita però adesso devo per forza comprarne qualcuno per portarlo su Layer 2 invece c'è questo Matic.supply che in sostanza è un Faucet non so come si pronuncia ti regala dei Matic però attenzione non diventerai ricco perché te ne regala un massimo di 0,001 in tranche da 0,0005 alla volta puoi usarlo al massimo tre volte al giorno ok si puoi anche usarlo con più address ma non ne vale la pena perché 0,001 Matic è meno di un centesimo di dollaro però ci puoi fare un pacco di transazioni cioè tu ci puoi fare providing di liquidità rimuovi liquidità harvest swap eccetera eccetera e quindi in sostanza non devi comprare i Matic questo è un po' il senso di questo strumento e quindi mi sento di consigliartelo poi posso farti una domanda su uno dei tuoi ultimi video assolutamente come mai hai deciso di abbandonare Nexo come piattaforma pensi che possa avere problemi in caso di arrivo di bear market sono praticamente all in lì anche se so che mi dirai parole per questo inoltre ne approfitto per chiederti se conviene esporsi al loro token ed eventualmente come decidere quando venderli per tornare in euro allora ti dico la verità non no non mi spaventa lo reputo sempre a un livello di rischio pari anche alle altre questo non è cambiato le Cefai sono tutte più o meno uguale rischio mi piacciono un po' di più Ledn e BlockFi lo ammetto però in ogni caso sono tutte un po' allo stesso livello di rischio le altre non uso più Nexo perché gli euro io la usavo per gli euro adesso euro ce li ho come si chiama su Curve e quindi non utilizzo più Nexo per questa ragione non per altro questo è l'unico motivo poi ah il loro token guarda il mio consiglio è sì perché tanto ti danno una reward più alta e poi tu li puoi vendere anche direttamente sul loro exchange quindi sì e poi damparli ogni tanto questo è quello che farei io mi sono perso l'inizio dov'è che fanno airdrop se ti registri airdrop chi è che ha parlato di airdrop quale airdrop dove ti devi registrare non lo so allora ah forse è riguardo al post di Telegram di oggi no perché in quel caso lì ho condiviso un airdrop che fanno sul canale di PrimeXBT Italia di Telegram non penso sia quello vabbè comunque ciao Luca come va la palestra dai non male non male fortunatamente non ha più chiuso quindi sono contento puoi dare un'occhiata a Riff anche lato fondamentali stanno facendo tante collaborazioni guarda lato fondamentali purtroppo non ci sto più non le sto più seguendo molte altcoin perché sai questo è un periodo in cui non cioè le altcoin mi stimolano ancora meno se già di solito mi stimolano poco ma se vuoi andare a vedere un po' di grafici molto volentieri anche se ahimè è male perché come avevano detto le ultime volte abbiamo perso questo range che ci teneva botta a ribasso e adesso vedete è un po' in caduta libera quindi purtroppo per me no un setup che potrebbe essere interessante sarebbe il rientro all'interno di questo range ok allora sì che diventa più bello da vedere poi dunque 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 dove siamo finiti mi sono perso qualcosa niente ah dove fanno leotrop se ti registri a El Salvador ok no allora parlavi del wallet dell'El Salvador sì allora mi sa che devi prendere un aereo prendere la cittadinanza la scaricarti il loro wallet e avere l'airdrop di 30 dollari non so se ne vale la pena sinceramente poi 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 consigli su staking di CHR o RIF tanto per non annoiarsi tanto per ora poco ci si può fare oddio non conosco sai dove CHR non so neanche che cos'è mamma mia sono abbastanza ignorante sulle altcoin lo so me ne rendo conto però adesso lo guardo così almeno da avere un'idea di cosa si sta parlando CHR Cromia Cromia che è Cromia bel nome interessante però mamma mia pump repentino e adesso un dump sembra una shitcoin ma non lo so non credo che la sia cioè il grafico è sempre una shitcoin relational blockchain platform bah non lo so mi astengo facciamo così mi astengo da qualsiasi no vabbè insomma cioè ci sono dietro dei WC quindi no non è sicuramente una shitcoin su questo non ci piove sullo staking non te lo so dire sai non so dove dove conviene farlo quanto rende quant'altro e lo stesso purtroppo vale per RIF mi dispiace conosci Young Platform cosa ne pensi spero che questa volta mi leggerai sì ti leggo la conosco e penso solo cose positive perché guarda è un exchange italiano sta lavorando benissimo soprattutto si sta facendo conoscere raccoglie fondi quindi assolutamente pollice in su per i ragazzi di Young Platform che stanno facendo un'azienda seria in Italia nel settore delle cripto un exchange quindi ben vengano cose del genere poi ok grazie mille evito di trasferirmi per 30 dollari esatto non ne valeva la pena dunque 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 consigli ancora di utilizzare Autofarm non ne parli più anche tu ci hai perso ma ci avevo perso qualcosina nel pool di Ethereum al tempo no quella storia con Venus non più di tanto ma qualcosina sì e in realtà no non l'ho più utilizzato preferisco molto Bifi Finance è più serio mi sembra più più serio una cosa simile a Edera Hashgraph una DLT ah ecco ah ecco e ok Cromia immagino sia qualcuno vocifera che il Salvador sia il paese più corrotto del mondo accettare bitcoin mi sa tanto da campagna più politica che altro guarda sulla politica non mi non mi espongo perché non conosco e non voglio neanche parlare di politica non è nei miei interessi né negli interessi del mio canale però io posso sicuramente dire che è una mossa furba secondo me perché è un paese comunque povero perché non è un paese ricco potrebbe avere l'opportunità di attirare capitali e di cambiare le carte in tavola per il suo futuro cioè io guardo questo e è una mossa furba mi cioè mi spiace ma è una mossa furba è diventato famosissimo per qua cioè pensate già solo questo poi poi casalinga di Voghera leva 100 e via assolutamente adesso ce ne sono poche di casalinga di Voghera e secondo me con questo bear market purtroppo su ATA ho farmato 50k di BNB e instasell al listing 50k di BNB non male non male esatto comunque il senso era quello anch'io faccio così al listing bam dump come giudichi l'attuale livello di sicurezza di autofarm ecco domanda difficile questa se livello di rischio medio dai facciamo così e poi non è un rischio di perdere tutto perché lì il problema era stato sul fatto che Venus aveva introdotto una fee e autofarm non si è adeguato quindi il problema è che ogni qualvolta qualcuno prelevava tutto il pool veniva impattato con quella fee e quindi ha eroso lentamente il pool di chi ci aveva depositato dentro mossa che fa capire comunque che non erano sul pezzo ecco non è un rug pool non è uno scam ma però non mi hanno convinto e quindi per me era no poi 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 ciao Luca potresti studiare la piattaforma The Five Popsicle Finance guarda me lo dite tutti e me la sono segnata perché tra l'altro ci ho buttato un occhio e non sembra neanche malaccio soprattutto c'era un pool l'ho visto con FUSD FUSDT forse quello su Phantom più il 3 pool che dava un ottimo IPY quindi voglio approfondire assolutamente poi 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 ciao Luca ho studiato un pomo nero e ho visto che nei tuoi video non lo apprezzi ma per me è la coin più anonima e che con non pochi soldi che girano nel darknet sì è vero è una privacy coin è una come si chiama è la migliore privacy coin però sai da investitore io vedo le privacy coin molto ostacolate comunque dai governi da cioè dalle istituzioni perché gli sono scomode e quindi io non ci cioè dovessi utilizzare un sistema per la privacy utilizzerei indubbiamente la come si chiama una privacy coin come monero ma per investirci no sinceramente perché c'è cioè è troppo ostacolata è troppo contro ecco il sistema e quindi il sistema stesso gli andrà contro presumo e impatterà sul prezzo poi dunque dunque da tenere d'occhio il Pultri Crypto di Curve esatto molto promettente inoltre inoltre tieni d'occhio MyFinance ne avevo parlicchiato in breve in qualche qualche live fa fanno compound automatico dei pool di ave esatto e c'è anche la loro coin avevo visto la loro stable coin simile a Dai mi piaceva anche a me dove siamo io shorterei Cardano così imparano a pagare la gente per scillare su Twitter chi è che ha pagato chi per scillare su Twitter no più che Cardano sono le shitcoin che fanno qua bella grafica Curve io l'amo la grafica di Curve perché BNB non me lo fa mettere in staking DeFi oddio non saprei sai non saprei ieri SushiSwap era bloccato ovvero non caricavi pool cosa è successo se dici su Polygon ultimamente ci sono un po' di bit di SushiSwap su Polygon per via della della saturazione di Polygon se Bitcoin va a 20k rubo la pensione di mia nonna per prenderne uno intero sarà contenta la nonna diglielo è per una giusta causa nonna e vedrai che lo faglielo comprare a lei poi 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 cosa ne pensi di questi progetti come Tiki autodistribuzione di BNB certo se il mercato cresciasse li vedo brutti ma non sono affatto male al momento che cos'è Tiki attenzione lo so già io Tiki cripto vediamo cosa salta fuori attenzione Tiktoken finance bello vediamo se c'è qualche video oscillatore non ancora allora vediamo a 10% di redistribuzione 5% nel liquidity pool 3% di selfie cosa vi ricorda cosa vi è learning from our mistakes esatto imparate anche voi dei vostri errori e non comprate queste shitcoin bene poi ma your finance si può usare su poligo no your finance oddio non credo perlomeno non credo proprio è solo su etereo io lo uso su etereo siamo in caduta libera senza paracadute addirittura no dai secondo me adesso dobbiamo vedere un po' la reazione con questo low dobbiamo andare a trovare il low di nuovo tanto per cambiare ormai è un low dietro l'altro è noiosissimo sto mercato davvero io non so più cosa fare non apro posizioni a parte le intraday che è un gioco ma posizioni serie non ne apro più cercavo ancora il mio short di copertura tra poco andiamo a vedere bene il grafico perché ci sono delle considerazioni da fare anche sui come si chiamano sui oddio time frame più elevati mi confondevo perché leggevo qualcuno che diceva di impermax finance una roba del genere che l'ho visto anch'io stamattina guardate eccolo qua infatti ce l'ho nella cronologia impermax finance allora io non non ve ne volevo parlare in realtà però vabbè visto che l'avete nominato ve ne parlo è su solana no non è vero no è su dove è su ethereum e poligon niente non c'entra niente solana scusa ho fatto casino e in sostanza è un farming in leva anche questo ma non ho capito bene esattamente da dove vengono fuori questi parametri ecco vedete ice qua non so se vedete no il pop up di metamask ma perché stavo giocando anche con popsicle finance prima comunque rimanendo a impermax in sostanza c'è qua una leva 50 per ma quello che metti in connect wallet va bene dai connettiamo il wallet in sostanza quello che tu metti in deposito come collaterale è l'LP vedete il token lp e con lo stesso potete prendere in prestito altre coin da rimettere in lending eccetera 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 creando un ciclo abbastanza importante però il motivo per cui io ancora non lo utilizzo è perché uno voglio capire bene ho letto un po' di su twitter così ho visto che molti hanno problemi a usare il sito è un po' discontinuo e così via e poi voglio vedere più liquidità perché andare a operare con leve del genere con un milione e mezzo di liquidità non ci siamo no voglio voglio che passi un po' di tempo voglio che cresca e poi magari lo guarderò per adesso lo reputo a rischio alto proprio a causa del fatto che è una novità ve lo dico esiste sappiate che esiste però mi raccomando attenzione ok perché qua c'è il tema della leva quindi della liquidazione scegliere bene i pool da mettere il pool in landing cioè sono tutte cose molto nuove e attenzione allora 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 dove siamo siamo qua eccoci caduta libera in zona mcdonald esatto non so se avete visto la mia storia infatti su instagram un po' di giorni fa dove servivo un po' di crispy mcbecon per andare ad arrotondare sapete in tempi di crisi c'è chi scilla shitcoin e io vendo i crispy mcbecon dunque buonasera luco ho 23 anni ho appena rischiato la giocata dato che ho prelevato tutti i miei fondi investiti da 3 anni da money farm per metterli a rendita in stablecoin cefai e qualche pool di defi bsc vorrei usare anche polygon ma il fatto che il network sia satura può causare qualche problema no ti dico la verità no l'unica controindicazione è che magari spendi un po' più di fima sono comunque talmente basse che è un qualcosa che non percepisci neanche sinceramente comunque 23 anni ci sta profilo di rischio elevato guarda io farei come te te lo dico con estrema sincerità anzi forse sparerei anche più su col rischio perché il bello di iniziare a investire da giovani tu sei molto sul pezzo perché io a 23 anni pensavo solo ad andare a bere sabato sera andare in giro alle donne eccetera eccetera ma se avessi pensato già 23 anni a investire caspita fa la differenza quindi complimenti e ti puoi permettere anche una tolleranza al rischio più elevata assolutamente poi come funziona l'indicatore di profondità nei chart la depth chart intendi non guardarla fai prima non guardarla dunque ecco mi è saltato tutto benissimo fantastico la chat spero che a voi non salti come salta tutto a me perché altrimenti c'è da delirare dunque mi sono stati regalati 20 dollari su PrimeXBT ma sono vincolati non posso inviarli trasferirli sì se fai qualche trade i profitti li puoi prelevare non sono vincolati sì sì è un po' come i promo code che vi droppo io ogni tanto allora scusate ma voglio fare un attimo un refresh della pagina per vedere che hai detto gnocca e ha cresciato tutto esatto infatti non si capisce più niente poi allora allora siamo arrivati qua sì ho conservato un po' di liquidità apposta per il bear market ho poche crypto ma per ora sto cercando di fare un piccolo pack tu personalmente cosa faresti senza consigli finanziari ovviamente niente consigli finanziari e no ti dico la verità io seguo sull'azionario un pack che durante i bear market accumula liquidità quindi esattamente quello il discorso cioè di andare a durante i downtrend uso degli indicatori banalissimi e anziché entrare accantono alla liquidità e poi a fine downtrend sempre con gli stessi indicatori babam all in altrimenti un'altra cosa che aveva detto l'altra volta e ve lo ripeto ve l'ho ripetuta già quindi spero di non annoiarvi ma mi è sembrata una cosa interessante è che comunque cioè qualcuno ha detto io metto in cefai a rendita e con la rendita della cefai faccio un pack su bitcoin e sulle altre coin molto interessante anche quella è una variante del ribilanciamento alla fine il topic è sempre quello poi 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 quindi si ci sta cioè io sono d'accordo che avere liquidità nei bear market è veramente un plus sono d'accordissimo poi no mi riferivo a clay ah ok il fatto che è una simile ed era hashgraph non si parlava di l'altra di cui ho già scordato il nome ma clay lucchino dici dove vedi il bitcoin in un mesetto allora ve lo dico subito eccoci qua eccoci qua eccoci qua allora sfera dove è bitcoin tra un mese allora 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 bene mi fa piacere 46.000 dice brava sfera così apro lo shop di copertura non aspettavo altro non aspettavo altro allora conosci point pay nuovo piattaforma cefai con rendite molto competitive no non lo conosco purtroppo devo devo informarmi non conosco proprio allora ciao luke ma secondo te la fork di cure velipsis ha un futuro in caduta libera da quando è nato ma guardo una cosa è il token un'altra cosa è la piattaforma quei token lì sono token farmati e quindi c'è sempre una selling pressure atroce se tu ci fai caso anche il nostro crv è così bene ne ha cresciato benissimo nel frattempo qua vedo che è un della qualità di twitch ha una garanzia splendido dunque ha laggato sulla risposta solo a me no ma riuscite a sentirmi bene vedermi bene speriamo qua è veramente un delirio e vabbè io ricomincio con le vostre domandozze allora ora si no si boh vabbè refresciate ragazzi se impazzite refresciate va a scatti tra poco ti romperanno tutti con ancor ti tocca fare il video su terra ragazzi io lo faccio eccome il video su terra perché io sono molto bullish sai su terra sull'ecosistema terra e non so se avete visto a proposito ecco mi hai fatto venire in mente anche sta cosa vi condivido un po' di aggiornamenti dai visto che comunque lato grafico non c'è tantissimo da dire parliamo un po' di fondamentali mirror protocol non fate caso al fatto che ho cercato mirror protocol short non è che lo voglio shortare ma è uscita la versione 2 di mirror protocol che è una gran figata come protocollo perché in sostanza è nel mondo terra quindi ci sono gli asset tokenizzati sulla blockchain di terra e con il loro oracolo di prezzi e così via guardate che figata si può farmare sia nelle posizioni long che nelle posizioni short perché in sostanza c'è un premium che è il premium tra il prezzo di mercato e il prezzo dell'oracolo e in base a quel premium un po' come fosse un perpetual che c'è il funding qua vanno a pesare diversamente il quanto si farma con long e con lo short per incentivare eventualmente e in sostanza come funziona? niente tu puoi andare a ottenere a fare il mining di questi mirror galaxy in questo caso Netflix QQQ eccetera eccetera dello stock market ma anche di valute di commodity e quant'altro vedete se voi farmate long occorre andare a creare o comprare gli asset in questione andare a dare un equivalente in UST ed è come se li metteste in un pool ok? mentre farmare lo short prendete un asset come collaterale quindi UST in questo caso si fa il borrow dell'asset in questione e quindi si è esposti short è interessante come concetto è molto nuovo e molto difficile da capire quindi anche qua non fiondatevi subito cercate di capirlo ma davvero è un protocollo che a me piace tantissimo questo e quindi faremo assolutamente video a riguardo bene poi dove siamo finiti basta direi che siamo è ora è quasi ora delle dei grafici o no adesso vedevo 50 minuti di timer vedevo le ultimissime domande io ho 47 anni e ho iniziato due anni fa ma le fiat non voglio nemmeno sentire nominare pack di bitcoin per la vecchiaia e stable coin per tutti i giorni mi piace questa però purtroppo con le fiat ci devi pagare e devi insomma fare gli acquisti quotidiani ahimè non si possono tanto fare in stable poi 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 ho finalmente iniziato il mio pack su dpi e mvi quello del metaversi ti volevo chiedere se conoscessi un indice sui progetti solana guarda c'è te lo dico subito come si chiama perché su ftx sei fortunato fortunello è qua allora non mi ricordo come si chiama seco qualcosa eccolo qua seco seco c'è dentro solana serum maps liquid fida ray e oxy c'è un po' tutto il mondo solana ovviamente adesso è in downtrend un po' come tutto quanto però esiste ed è anche spot tra l'altro non solo non solo perpetual quindi può essere interessante benissimo allora stop alle domande per un attimo e andiamo a vedere i grafici stavo dando un'occhiata scusate queste pause ma ogni tanto butto un occhio su twitch per vedere come vanno le cose ecco se è ancora utilizzabile o meno mi sembra di sì dai mi sembra che sia abbastanza a zero lag zero latenza comunque comunque allora partiamo da bitcoin su bitcoin cosa abbiamo da dire allora siamo arrivati a nella scorsa live cos'è che eravamo eravamo più o meno qua tra queste due candele verdi all'incirca e avevamo avuto una reazione da parte della domanda reazione positiva perché comunque il fatto che abbiamo provato a rompere i 30k e la domanda di nuovo ha assorbito intrappolando parecchi short mi era piaciuta mi sarebbe continuata piacere soprattutto se fossimo ritornati sopra l'origine del dump ovvero 35005 ma invece purtroppo gli shorter i bear si sono fatti vivi di nuovo in particolare quando siamo arrivati proprio all'origine del dump l'hanno difesa babam svendendo di nuovo e oggi questo è il risultato candela atroce quella di oggi perché qui avevamo allora ripercorriamo un attimino la storia di questo range per quanto poco sia necessario fare abbiamo due low 1 e 1 a 2 poi abbiamo due high e qua avevamo un range abbastanza normale fin qui tutto normale poi abbiamo avuto un lower low con falsa rottura vedete pam pam quindi un segno di domanda positivo fin qua cioè era bullish come cosa il falso breakdown se solo non fosse che il target è stato il range high e poi al range high guardate cosa è successo falso breakout ahimè e qua bruttino soprattutto andato a prendere in concomitanza con la direzionalità ribassista infatti avevamo detto che poteva essere un setup short questo falso breakdown in downtrend classico setup short da range avevo fatto il video sull'operatività nei range 5 setup diversi questo è uno dei miei preferiti quando siamo in uptrend falso breakdown ci sta il long in downtrend falso breakout ci sta lo short poi cosa abbiamo di bello abbiamo un attacco diretto di nuovo i low che ormai questo doppio minimo è diventato storia non ha più reagito in nessun modo qua c'è stata una minima reazione ma guardate che volumi insulsi e dopo dampone ed ecco che qua si crea una nuova resistenza all'origine del damp è importante quando ci sono candele rilevanti con un'ampiezza notevole che siano di pump o di damp l'origine di quella candela è dove si sono innescati il grosso degli ordini l'inizio l'inizio dell'effetto palla di neve quindi se si ritorna lì si vanifica un po' l'effetto del movimento stesso per questo è importante e stiamo parlando non di un movimentino così perché questo dump ha avuto un meno 20% di picco picco cioè non sembra perché adesso ormai siamo scesi e quindi i movimenti sono compressi e poche migliaia di dollari però in realtà fanno un meno 20% quindi attenzione poi una volta che l'abbiamo fatto abbiamo stornato un attimino guardate cosa è successo tac siamo arrivati di nuovo qui che era il nostro vecchio doppio minimo e i seller tac hanno venduto come dicevamo poco fa quindi abbiamo un bearish retest se lo vogliamo e inoltre un engulfing bearish perché questa candela è abbastanza brutta adesso vediamo come chiude però sembra voler chiudere comunque con dimensioni maggiori di quella di ieri e anche di quell'altra quindi come vedete c'è la disparità domanda offerta cioè si è fatta vedere la domanda qua sotto sì e con vigore anche perché ha assorbito una bella fetta del movimento alla candela stessa nella candela stessa però poi guardate body microscopici volumi bassissimi e il body di offerta di oggi se li ha mangiati tutti il che fa vedere che c'è anche un order book vuoto cioè non c'è liquidità in acquisto liquidità in domanda probabilmente è più giù e quindi questo ci fa capire che purtroppo non c'è ancora motivo di essere bullish detto in altre parole questo weekend secondo me sarà un momento curioso perché innanzitutto adesso stiamo approcciando questo minimo ok quindi dovremo in qualche modo vincerlo da una parte o dall'altra cioè o abbatterlo e fare un minimo più basso oppure di nuovo una bella respinta il che sarebbe un bel segno perché se ci fosse un'altra respinta su questo minimo significherebbe che comunque la domanda c'è è vive vegeta e vuole farsi sentire altrimenti sono curioso di vedere sotto i 30k come reagiamo perché ormai la domanda è lì guardate facciamo un bel rettangolo se prima avevamo il nostro pool di domanda comunque dislocato qua sotto vi ricordate che inizialmente era qua adesso purtroppo non è più così perché è stato eroso è stato eroso uno due qua ci abbiamo iniziato a chiudere dentro e qua ancora adesso ci rimaniamo dentro per giorni quindi questa se noi andiamo ad analizzare a fare un grafico domanda in funzione del tempo abbiamo un grafico di questo tipo purtroppo vedete è calante proprio perché più andiamo avanti e più la domanda lascia passare lascia che si svenda lascia che si perdano livelli di prezzo quindi al momento il baluardo di domanda è qua sotto sotto i 30k vediamo in questo weekend se lo andiamo a pizzicare se lo sfioriamo se non lo tocchiamo neanche e ripartiamo subito non lo so a prescindere da ciò che accadrà sarà probabilmente un weekend interessante degno di nota nonostante di solito i weekend sono insubulsi questo è quanto su bitcoin quindi scenario bullish prima cosa riprendere l'origine del dump qua e bullish sul brevissimo nel senso cioè parlare di bullish qua è difficilissimo però scenario di invalidazione di questo dump sarebbe rientrare qui dentro almeno ci sarebbe un pelo di spinta per andare di nuovo al range high e magari andare a romperlo a rialzo chi lo sa sto range ormai ci sta veramente asciugando in una maniera terrificante c'è di buono unica cosa buona volendola trovare a tutti i costi che la durata del range sta aumentando e se ricordate che cosa significa significa che la direzionalità ribassista che è stata impressa nel primo movimento nel range che si va ad allungare viene diluita e quindi se poi partiamo a rialzo come si deve va beh va meglio cioè è meglio perché comunque dopo la diluizione un rialzo potrebbe aver causato il fatto che la diluizione era un'accumulazione volevo farvi vedere prima di passare a un'altra coin il time frame mensile perché guardate purtroppo cioè quando si guarda un time frame del genere è difficile essere bullish ancora di più la ragione è che abbiamo il nostro uptrend parabolico la candela di top questa candelina che ha scosso un po' tutto e poi la candela di maggio è atroce perché ha fatto un dump che ha ingolfato l'ultima quindi vedete è un classico una una spazzata cioè una botta veramente forte ha spazzato via l'ultimo mese ha provato a spazzarvi anche due mesi poi un po' è stata riassorbita purtroppo non c'è offerta cioè non c'è domanda anche il follow up di giugno è dominato dall'offerta questo per dire che questa tutta l'aria di essere una prima onda correttiva non l'ultima secondo me io mi aspetto ripeto sfera di cristallo è questo un momento sfera di cristallo io vedendo un andamento così mi aspetto prima o poi anche su questo time frame del verde una correzione quindi una candela mensile verde ok short di copertura sarà pronto e poi una continuazione ribassista e poi vedremo se diventerà una 4 e 5 quindi un movimento effettivo oppure no potremmo andare a fibonacciarla anche questa cosa vediamo cosa ci salta fuori allora fibonaccio tac da dove lo facciamo partire di bello da qua o da qua beh non lo so sarebbe forse da qui ne potrebbe valere la pena perché il minimo è qua allora tac tac allora vediamo se è più bello farlo partire da qui non cambia una mazza sostanzialmente comunque per dire che guardate siamo tra il 50 e il 61 e 8 ok quindi in sostanza noi potremmo appunto rimbalzare da queste parti ci sta magari ritornare verso il 38 e 2 che è 41 1.000 la sfera di cristallo e poi andare a fare l'ultima leg down guardate lo 78.6 è esattamente anche in zona di questo vecchio top la liquidità del vecchio top mensile tra i 14.000 e i 20.000 è il vecchio all time high quindi in sostanza potrebbe essere una zona di retest io mi auguro che non lo perderemo perché se perdiamo anche quello mi sa che andiamo avanti per un bel po ecco col mercato ribassista ma non voglio adesso fare il pessimista o fasciare troppo la test ecco allora 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 in sostanza stiamo a vedere il test dei minimi per adesso e come va questo weekend per quanto riguarda le altcoin lo scenario continua esattamente allo stesso modo cioè non mi sembra ci siano altcoin interessanti Ethereum è lì abbastanza svuotato le altre altcoin anche oserei dire quindi io ripeto non prendo posizioni la dominance è sempre lì che sta un po' lateralizzando però sembra aver rotto questo costrutto di bottom quindi non benissimo non benissimo che dire amici miei io direi che per oggi ci possiamo salutare dunque 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 questa analisi da sfera di cristallo mi piace la condivido e io mi aspetto una cosa del genere proprio per questo motivo punto sempre al mio short di copertura da queste parti sopra i 42 sopra i 43.000 in realtà sarebbe vediamo vediamo un po' come va altre cose che vi volevo far vedere direi che per ora non ce ne sono vabbè dai guardiamo il lato positivo anch'io sto mi sto mettendo a studiare un bel po' scoperto adesso sto studiando bene Mirror Protocol un bel po' di robe che fai sfruttiamo il momento per questo ecco nel frattempo il nuovo range ve l'ho detto aggiornato è 30.000 40.000 range oserei dire però vediamo adesso stiamo ci stiamo dirigendo verso il range low speriamo che tenga speriamo che dia una bella botta dai forza voglio un bel weekend bullish speriamo lunedì di vederci un po' più bullish io nel frattempo vi faccio un carissimo saluto ringrazio come al solito chi si è abbonato se vi ricordo che con Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente e basta noi siamo sempre bullish sul lungo termine non vi preoccupate che questo non cambierà mai e poi mai e poi mai alla prossima buona serata buon weekend e a lunedì sperando di essere più bullish ciao 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 ciao